Era in partenza con marijuana e cocaina nascoste nei bagagli. I carabinieri di Molfetta, durante un servizio di controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato l'uomo, noto per essere già stato arrestato con l'accusa di spaccio, nei pressi della fermata del bus che porta a Bologna. Il pregiudicato, un 34enne del posto, stringeva fra le mani un borsone e un trolley. I militari, insospettiti, hanno deciso di sottoporlo ad un accurato controllo, ma alla richiesta di esibire il contenuto dei bagagli, l'uomo ha opposto un netto rifiuto. A quel punto i carabinieri hanno capito che all'interno nascondeva qualcosa. Infatti, tra gli indumenti, hanno trovato un pacco incelofanato contenente marijuana per un peso di un chilogrammo, nonché tre buste di cocaina, di cui una confezione sotto pressione per evitare la fuoriuscita dell'odore, per un peso complessivo di 100 grammi. Il tutto, molto probabilmente, destinato al mercato di Bologna. Il 34enne, che non ha saputo dare spiegazioni certe in merito al possesso della droga, riferendo di non essere il proprietario dei bagagli, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.